Amici di Disanima, ciao a tutti. Vogliamo fare una cosa particolare quest'anno. Mantua Celata, cosa significa? È un progetto ambizioso che porterà quattro artisti di fama, come l'Arpa Rock di Micol, come Francesco Baccini, come Sergio Sgrilli e come Flexus, in quattro dimore nobili mantovane. Casa Bini, Casa Moreschi, Palazzo Valenti Gonzaga e Palazzo Castiglioni. Quindi prestigiose dimore, dove ci sarà la musica di prestigio. Quindi vi invito tutti ad ascoltare e vedere questa cosa che Disanima Piano ha fortissimamente voluto e vuole presentare a tutti voi. Ciao.